Sta diventando sempre più una contesa tra PD e 5 Stelle questo voto del 4 di dicembre, una specie di duello a distanza tra Renzi e Grillo, ma nell'attesa ogni giorno ci sono motivi di nervosismo che arrivano da più parti. L'ospite di oggi è il Ministro della Cultura Dario Franceschini, ben arrivato, ciao Massimo. Ciao Laura, buongiorno Ministro. Che cosa è successo oggi? Tre consiglieri di amministrazione della RAI hanno scritto alla Presidente Monica Maggioni dicendo che la TV di Stato sta predileggendo il sì, sta favorendo il sì e chiedono la convocazione di un Consiglio straordinario per verificare i dati. Secondo lei è vero? Si favorisce il sì nelle trasmissioni di approfondimento? Non lo so perché non è che passo tutta la giornata a guardare cosa c'è sulla RAI. Ci sono delle regole nel nostro ordinamento, c'è la Commissione di Vigilanza sulla RAI, che peraltro credo sia competente, c'è il Consiglio di Amministrazione, facciano tutto quello che devono fare. E' importante garantire condizioni di parità, diverso è se si vuole far diventare la richiesta di condizioni di parità uno strumento di campagna referendaria, anche questo l'abbiamo già visto tante volte. Mi pare più interessante la discussione sul merito che non sugli spazi. Sì, prima del merito però c'è un altro aspetto del vantaggio competitivo, teorico o reale che il Governo ha in questo momento. Al di là dell'informazione, quindi della RAI, vedremo, siamo in par condicio effettivamente, la Commissione di Vigilanza ha tutti gli strumenti per intervenire. L'altro fronte però di presunto vantaggio competitivo è la lista degli italiani che votano dall'estero, sulla quale si è innescata una notevole polemica, intanto perché di questa lista è in possesso solo il Governo e quindi le lettere di Renzi le manda ad personam soltanto il Governo, questa è una delle accuse che vengono fatte. L'altra questione che viene sollevata in questo momento è che, così dicono anche i 5 Stelle, in passato ci sono state irregolarità, comunque il voto dall'estero ha sempre dato luogo a dubbi sulla trasparenza e quindi questo è un altro fronte aperto, c'è già un ricorso annunciato prima ancora del voto. Io nella mia memoria ho assistito a molte discussioni sui brogli dopo le elezioni, le discussioni sui brogli prima delle elezioni sono un inedito d'assoluto, è veramente una roba surreale, non si capisce a che cosa faccia riferimento. Ho detto una dichiarazione di Maio che dice che ci sono stati i brogli altre volte, è un deputato, è un pubblico ufficiale, ha il dovere di andare a denunciare, vado in Procuro della Repubblica e denunci quando ci sono stati dei brogli che non sono stati accertati. Bisogna smettere di fare questo polverone perché questo polverone copre il merito del referendum. Anche in questo caso le liste degli elettori sono pubbliche, le chiedono i partiti, le hanno sempre chieste per spedire inviti a tutti gli elettori della circoscrizione, a tutti gli elettori del collegio, non la capisco sta propaganda, se non fare un gran polverone per fare gli antisistemi a tutti i costi. Comunque, volevo specificare che poi il voto degli italiani all'estero rischierà di diventare davvero decisivo. Come sappiamo la lettera famosa è stata inviata a 4 milioni di cittadini che vivono in altri paesi, mi sembra da varie stime, considerazioni, calcoli che tra un milione e un milione e mezzo di persone voterà per questo referendum vale tra il 5 e il 6% insomma del totale. Da che il mondo è mondo, in campagna elettorale si mandano le lettere agli elettori, le mandano i partiti come ha fatto Renzi, come il segretario del PD, le mandano agli elettori e si è sempre fatto. Anche in questo caso non ho capito perché è nata questa polemica. Per questo mi pare che ci sia una volontà, e questo mi preoccupa, di non parlare agli elettori del merito in modo che si formino un orientamento se è giusto votare sì o giusto votare no, per le cose che la riforma determinerà per l'Italia dei prossimi decenni, che si possono condividere o meno, ma invece si parli d'altro, perché tendenzialmente si parla sempre d'altro. Però è anche vero che, e qui torniamo ad uno dei peccati originali di questa campagna elettorale, che a mio parere è in capo soprattutto al Presidente del Consiglio, il quale se ne è anche fatto carico a un certo punto. Ormai siamo ad una politicizzazione totale di questa consultazione referendaria che è diventata quasi come le elezioni politiche. E questo determina tutta una serie di distorsioni, e vi compreso il fatto, e questo credo sia innegabile, al di là delle polemiche in Consiglio d'Amministrazione RAI su come la RAI stessa fa le informazioni, io vi compreso il fatto che da diversi giorni, e credo che sarà così fino al 4 di dicembre, ormai vediamo non soltanto esponenti del governo o della maggioranza, lei è tra questi, ma è uno dei meno presenti da questo punto di vista. Però sicuramente il Presidente del Consiglio è in televisione, sulle televisioni tutti i giorni, così come i rappresentanti del no. La domanda è, ma in un Paese chi lo governa? È stato giusto trasformare il referendum nel giorno del giudizio, e legare a questo la sopravvivenza del governo stesso? Ma sembriamo tutti caduti sulla terra da un altro pianeta, quindi non sapendo quello che è successo. Quando mai un Presidente del Consiglio politico, e in questo caso il Presidente del Consiglio è anche segretario di un partito, non fa la campagna elettorale? Ma ve ne ricordate un caso? C'è un caso, Berlusconi le faceva, Prodi le faceva, e D'Alema le ha fatte. Sì, alle politiche non c'è dubbio. Ma no, anche sui referendum, ma il referendum della Devolution Berlusconi non l'ha fatta, da Presidente del Consiglio in carica... Ma era un'altra anomalia, non parliamo di Berlusconi perché... No, io parlo di una cosa assolutamente normale. Quella era un'anomalia nell'anomalia. Il Presidente del Consiglio di un governo politico si impegna sulle battaglie importanti per il Paese, fa campagna elettorale in tutto il mondo, e la fa, maggior ragione, su un referendum, perché in questo esercizio di rimozione collettiva, che davvero fa preoccupare. Ci si dimentica come è nata questa legislatura. Questa legislatura è nata senza un vincitore, ci si è messi infilati in quella situazione drammatica in cui non si riusciva a leggere il Presidente della Repubblica, abbiamo chiesto a Napolitano di fare il Presidente della Repubblica, è venuto in aula, ha accettato dando due begli schiaffi, ha fatto bene al Parlamento, dicendo questa legislatura va avanti con il dovere di fare le riforme. Tutti in piedi ad applaudire. Tutti in piedi ad applaudire. Quindi il governo Letta prima e poi il governo Renzi sono nati, certo dovendo governare i paesi e risolvendo i problemi degli italiani e facendo quello che è stato fatto, condivisibile o meno, fa parte della fisiologia democratica, ma con il dovere di portare avanti la riforma costituzionale. Viene approvata, dopo il percorso del 138, quindi due anni e mezzo di percorso, il governo su quello ci mette la faccia, volete che Renzi parli d'altro? Fischietti, sei al referendum, va a parlare d'altro? Questo no. Ma sono sogni, detto questo, però quello che dovremmo trasmettere è, lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che all'inizio probabilmente ha eccessivamente personalizzato con il discorso delle sue dimissioni, eccetera, ma dobbiamo capire che non stiamo andando a votare su Renzi. Io ho visto addirittura dei manifesti della Lega no all'interno dell'ho, la faccia di Renzi e la croce sopra. Noi stiamo votando sulla Costituzione, che è una cosa molto seria, sia per chi la condivide questa riforma e chi non la condivide. condizionerà la vita del Paese per decenni, perché le Costituzioni in questa misura non si cambiano ogni dieci anni, si cambiano ogni trenta, quarant'anni. Di fronte a questo tema è diventato un modo per colpire Renzi. Allora io vorrei dirlo con molti elettori soprattutto, ma anche quelli che sono impegnati in politica, chi vuole battere, sfidare e battere Renzi dentro il Partito Democratico? nel 2017 la scadenza ci sono il congresso e le primarie aperte e quindi uno vuole sfidarlo e ci mancherebbe altro, lo sfido e lo batte, se ci riesce. Chi vuole battere Renzi sul piano politico? Ci sono le prossime elezioni politiche, sono tra un anno, sono nel febbraio 2018, perché andare a inquinare il dibattito sulla riforma costituzionale trasformandolo in un'altra cosa? Quindi secondo lei se Renzi anche perdesse il sì perdesse il referendum, Renzi non si deve dimettere, deve restare al suo posto, si sta parlando di un referendum sulla Costituzione, non è un voto sul governo, quindi il governo va avanti, è giusto o no? È giusto, l'ho già detto, io penso che sia. Non si deve dimettere, non deve neanche andare al Quirinale a rassegnare le sue dimissioni. Io che decido, lo decide il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Siccome lei chiede un pari da me, io dico proprio perché questo referendum non è sul governo ma è sulla Costituzione, penso che il governo che ha avuto la fiducia delle Camere per andare avanti fino a fine legislatura debba continuare a lavorare fino a fine legislatura. Poi è una mia opinione. Guerini, che è uno dei vostri, importante, ieri ha detto se vince il no è elezioni anticipate in aprile. Però lei ha perso un quarto d'ora dopo la dichiarazione in cui Guerini ha detto che... Ma lasci no! Ma era stato strumentalizzato in che modo? Sì, infatti non abbiamo capito a quale è questa cosa. No, io no, io no. Li conosciamo i politici, no? Non abbiamo capito a quale? Perché siete i diffidenti, siete tornati a strumentalizzare. Ma lei è navigatissimo molto più di noi i politici. Comunque io ho detto come la penso. Ha dovuto fare una retromarcia. Io ho detto come la penso. L'ho detto non oggi, l'ho detto anche in altre occasioni. Io penso che il governo, Renzi, dovrebbe andare avanti fino a fine legislatura. Bene. Dunque, ci sono tante domande dei nostri lettori ma anche molte altre cose che noi abbiamo da chiederle. Per esempio, quindi è tornato in tv. Era una delle cose che si attendevano perché la sua partecipazione anche per motivi di salute a questa campagna referendaria è stata, diciamo, soft. Qualche video, qualche post su Facebook ma insomma non è il Berlusconi di una volta. Adesso sì però. Stasera va a Matrix. Eh appunto. Quindi dicevo che con ieri si apriva una pagina evidentemente nuova. Rush finale. Però in merito a quella, diciamo, distanza con le aziende, con Falonieri che sono schierate per il sì lui ha detto ah, votano sì perché hanno timore di ritorsioni. L'ha visto? L'ha sentito? Beh, è chiaro. Berlusconi per il no quindi usa gli argomenti che possono cominciare Ma state preparando qualcosa contro Mediaset? Anche qui per fortuna è finita quella fase, no? Quindi non è che adesso dobbiamo preoccuparci di Berlusconi presidente del consiglio. Mediaset è un'azienda come un'altra sta sul mercato con le regole degli altri quindi faranno le loro valutazioni. Non mi pare che ci sia nessun legame logico tra esito del referendum e vita delle aziende. Mi pare un'altra cosa per parlare d'altro come stiamo facendo secondo le abitudini di questa campagna referendaria. Dunque, due domande molto chiare e molto nette invece sul referendum. La prima di Matteo scrive da Pescara e chiede Gentile Ministro ci spiega se in caso di Vittoria del Sì cambierà qualcosa per la gestione della cultura e del patrimonio artistico italiano? Naturalmente non è il tema centrale della riforma ma cambierà perché tra le correzioni al titolo quinto della Costituzione del 2001 che prevedeva un potere molto forte delle regioni in materia di cultura e di turismo abbiamo capito dopo più di dieci anni che era necessario correggere quindi le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale tornano ad essere prevalentemente dello Stato così come le funzioni di promozione turistica del Paese. Siamo arrivati per via di una norma che insomma non funzionava al fatto che l'Italia nel mondo veniva rappresentata dalle singole regioni perché il turismo era diventato una competenza regionale quindi in una fiera a Shanghai o a Mosca avevamo lo stand della Basilicato del Molise e con questa riforma la promozione turistica e la valorizzazione del patrimonio culturale tornano nelle competenze dello Stato. Entriamo ancora più nel dettaglio di questo aspetto perché Mirko Modolo che scrive da Roma le chiede un po' in parte ha già risposto però ripeto possiamo essere ancora più netti la riforma conferirà allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di valorizzazione dei beni culturali mentre assegnerà alle regioni competenza in materia di promozione la valorizzazione secondo il codice dei beni culturali consiste nella promozione della conoscenza del patrimonio culturale qual è esattamente la differenza tra promozione e valorizzazione non c'è il rischio che si crei ambiguità e potenziale conflitto di attribuzione tra Stato e regioni in questi ambiti? la riforma risolve molti dei problemi di conflitti tra Stato e regioni perché toglie la legislazione concorrente stabilisce in modo chiaro quali sono le competenze esclusive dello Stato quindi ridurrà tutto quel contenzioso più di 1500 ricorsi che ci sono stati davanti alla Corte in questi anni in questo caso la promozione che fa riferimento a quella norma è nell'ambito regionale è evidente che nell'ambito della propria regione la regione può fare promozione del patrimonio culturale o anche promozione turistica ma la valorizzazione del patrimonio nazionale e all'estero soprattutto ti ha abitato allo Stato ancora poi ridò la parola a Massimo Francesco Maggio ha scritto una mail abbastanza lunga vado sono Francesco Maggio giovane italiano all'estero direttore artistico dell'associazione Arces di Stoccarda che promuove la cultura italiana in Germania ospitando ogni anno si fa un po' di promozione pure lui il top degli artisti di musica da camera classica sono inoltre il coordinatore di Stoccarda per il sì ma con la riforma costituzionale le risorse della cultura voglio conoscerlo ritorno a far parte del governo centrale sottolinea anche lui le risorse le risorse comunque adesso entriamo nel merito sarà possibile estendere il raggio dei contributi ministeriali anche alle organizzazioni e associazioni culturali di italiani in Europa come la nostra quindi cultura sì o cultura no? intanto penso che si possa registrare sono i numeri che lo confermano che dopo anni di taglia alla cultura che dal 2000 al 2013 il bilancio del mio ministero si è dimezzato esattamente nel 2014 si è interrotta questa tendenza nella legge di stabilità 2015 per il 2016 il bilancio del mio ministero è aumentato del 37% siamo tornati sopra i 2 miliardi dopo essere scesi sotto il miliardo e mezzo le risorse sono state distribuite sul patrimonio anche quello più impoverito negli anni le biblioteche gli archivi sui musei e anche sulle attività culturali abbiamo fatto una nuova legge del cinema che aumenta di 150 milioni le risorse un miliardo di investimenti già deliberati dal Cipe su grandi progetti del paese che stavano fermi da anni quindi è un momento in cui anche con una condivisione più larga della maggioranza si è fatta una scelta di investire in cultura i contributi del ministero a pioggia non ci sono più è chiuso da qualche anno questa stagione alle singole associazioni c'è una tabella che agli istituti culturali distribuisce secondo dei criteri formulati da una commissione e secondo in parte quello che prevede già la legge che vengono distribuiti ma non c'è più il contributo a pioggia alle singole associazioni ma a questo proposito e così facciamo un ulteriore passo avanti sul merito della riforma possiamo dire che con la rimessa a registro del pasticciato titolo quinto del 2001 questa riforma chiude una stagione di federalismo chiamiamolo tra virgolette federalismo all'italiana perché ci abbiamo provato con quella riforma del 2001 abbiamo visto che non ha funzionato questo è un po' un ritorno alla centralizzazione possiamo definirla così nel rapporto tra Stato centrale e enti locali c'è questa tendenza? così è un po' forzata perché non è che si cancella il sistema regionale il federalismo italiano che c'è stato su alcune competenze proprio dopo 15 anni ma del resto in politica uno deve avere quella riforma non la fate in centro-sinistra e quindi registra che vanno corrette alcune cose perché non hanno funzionato sia per la conflittualità davanti alla Corte soprattutto sulla legislazione concorrente sia perché alcune materie è giusto che siano più di competenza esclusiva dello Stato per esempio l'energia per esempio la salute avere degli standard omogenei nelle singole regioni per esempio le grandi infrastrutture le grandi infrastrutture non è possibile che un'autostrada o una linea di alta velocità abbia competenze o il ponte sullo stretto per dire tocca due regioni quindi teoricamente anche quello mi è favorevole il ponte sullo stretto io sono ragione in modo abbastanza semplice se si vuole portare l'alta velocità perché l'alta velocità oggi finisce a Salerno non è giusto che l'Italia sia rivisa in due l'alta velocità deve arrivare anche nel mezzogiorno deve arrivare a Palermo a Catania per arrivare a Palermo a Catania ho l'impressione che di mezzo ci sia lo stretto quindi se lei ha un'alternativa per portare l'alta velocità al ponte me lo dica sarebbe sufficiente portargli la velocità intanto questo è un modo di trattare il sud in modo discriminatorio perché non ha senso che ci sia l'alta velocità Torino-Milano Venezia-Milano Roma-Torino fino a Napoli-Salerno poi a Salerno si torna sui treni dell'Ottocento non ci sta quindi l'alta velocità di Veneno-Sud va bene il ponte torni dietro quindi alcune materie è giusto che tornino competenze dello Stato quello che è paradossale è che i sostenitori del no sono quelli che criticavano il titolo quinto oggi che lo modifichiamo nel senso da una gran parte di loro ha auspicato bottano no per tenersi il titolo quinto con i suoi difetti così com'era ma siamo un po' nel rapporto con i 5 Stelle vi accendevamo in apertura dunque oggi Beppe Grillo sul suo blog fa un'operazione un po' diversa si richiama ai padri costituenti mette un video con due attori che raccontano cosa Piero Calamandrei e Vittorio Foa potessero pensare mentre scrivevano la Costituzione sarebbe interessante anche sapere cosa penserebbero di Grillo ma questo è molto interessante sarebbe interessante sapere cosa penserebbero di tutto quello che stiamo ma in particolare di Grillo no perché i padri costituenti l'abbiamo tirati a tutte le pelle sia il sì che il no e ieri invece utilizzava altre armi parlava di Renzi come di una scrofa ferita ecco visto che lei è il ministro della cultura ma anche proprio di questa propaganda della volgarità che si sta utilizzando ho fatto cenno al 5 stelle ma insomma da più parti arrivano veramente degli attacchi molto bassi non capisco che bisogno ci sia di scendere in questo livello di scontro anche perché ripeto l'oggetto è una riforma costituzionale sulla riforma costituzionale non può dire sono d'accordo nel sistema bicamerale o sono d'accordo sul monocameralismo questa riforma non va bene per questo aspetto non capisco che bisogno ci sia di questa aggressività lo è perché una parte del paese ha intravisto il referendum come l'occasione di dare una spallata al governo ci sta anche questo ma è colpevole che avvenga sul sistema costituzionale perché quello che uscirà dal sistema dalla vittoria del Sio del No i due scenari che usciranno sono completamente diversi tra di loro bisogna avere l'onestà di vederli se vince il No a parte le conseguenze immediate l'economia il governo vedremo lei pensa che ci sarà un attacco speculativo lo spread non lo so io però leggo il Financial Times ho letto quello che ha detto la Banca d'Italia due giorni fa leggo quello che ha detto Confindustria leggo quello che doggio Standard & Poor's quindi può essere vero o non vero so che c'è questo allarme in tutto il mondo mi fermo mi faccia finire mi fermo quindi primo scenario a parte le conseguenze immediate vedremo quali saranno c'è una conseguenza certa che è nel lungo termine perché se il No sostanzialmente dice l'Italia vuole tenere la tua costituzione non è che la cambi dopo sei mesi passeranno anni il sistema resta bicamerale abbiamo già visto in questi anni di bipolarismo dall'inizio il primo governo Berlusconi non aveva la maggioranza al Senato perché Tremonti e alcuni altri cambiano lo stiramento così è stato diverse volte negli anni Bersani ha vinto le ultime elezioni politiche alla Camera ma non le ha vinte al Senato quindi non ha potuto fare il governo con un sistema che è diventato a tre poli 5 stelle centrodestra e centrosinistra è certo scientifico che al Senato nessuno avrà la maggioranza e quindi il Paese verrà condannato per me per un tempo molto lungo al fatto che chi vincerà la Camera non avrà la maggioranza al Senato quindi o l'Argentese oppure si torna a votare come Spagna e Grecia instabilità cioè esattamente quello che tutto il mondo teme dall'Italia instabilità secondo scenario vince il sì lasciamo stare chi vince vince 5 stelle vince il PD vince la destra lasciamo stare chi vincerà le prossime elezioni si troverà in uno scenario che abbiamo tutti disegnato come un sogno da anni una sola Camera che fa le leggi un meccanismo legislativo veloce e la maggioranza in quella Camera è un altro mondo 5 anni di governo cioè come nei comuni uno vince governa 5 anni se ha fatto bene lo conferma e si ha fatto male la maglia a casa sono veramente due cose diverse di questo io vorrei che si discutesse Brunetta Forza Italia capogruppo diceva ma vince il no e comunque deve dare un nuovo incarico a un Renzi molto indebolito Mattarella a quel punto si deve votare una nuova legge elettorale e poi appunto alle urne questo lei lo prevede potrebbe essere questo uno scenario anche del dopo voto ho sufficientemente esperienza per non sostituirmi a non dire cose che sono assoluta competenza del campo dello Stato e in questo caso anche del Presidente Consiglio che deciderà che cosa fare nel caso sciagurato di una vittoria del no si vedrà però non c'è un automatismo possono succedere tante cose io so solo una cosa che qualsiasi legge elettorale in un sistema bicamerale non può garantire che ci sia una maggioranza stabile in tutte e due le camere come abbiamo verificato negli anni io volevo prima non me l'ha fatto dire però voglio tornare sul tema mercati e diciamo osservatori internazionali c'è l'allarme sul fatto che se vince il no si apre una fase di instabilità abbiamo detto il Financial Times il Wall Street Journal c'è un po' anche un uso strumentale di questi interventi che arrivano dall'estero io però ho un'impressione volevo sentire lei su questo lei giustamente dice vedremo che cosa succederà ma lei non pensa che questo possa diventare uno strumento utile al no più che al sì e cioè può spingere una parte di opinione pubblica a dire queste sono invasioni di campo io le rifiuto i soliti mercati i soliti poteri forti tra virgolette ormai si continua a usare questa formula nessuno sa bene che cosa siano i poteri forti anche per un'altra ragione perché una parte di voi anche dentro il governo ha sostenuto che questa riforma è necessaria perché serve a ridare sovranità alla politica contro la finanza è stato detto così dopo di che il cortocircuito è che invece la finanza voterebbe voterebbe per il sì quindi non si capisce bene non votano né standard de course né nel vostro journal io penso che può darsi che aiuti no però non ci sono elementi nel senso che se uno legge quello che nel mondo dicono riferimento a referendum in Italia quindi registri nel dibattito sono cose che vanno usate con qualche prudenza perché rischiamo di essere non sono voci filo governativi o di pericolosi sovversivi può darsi che aiuti in un fronte o l'altro c'è questa preoccupazione nel mondo ed è derivata da una cosa molto semplice che anche chi non è un aspetto d'economia capisce il problema dell'Italia è stata l'instabilità siamo a due anni e mezzo il governo Renzi a due anni e mezzo e il quarto governo su 63 per durata fra un po' diventerà il terzo quindi è chiaro che c'è questo problema di cui tutti parlano tutti i sostenitori del no da anni dicono la stabilità il monocameralismo sono le due cose che chiedono tutti destra e sinistra tutti hanno sempre chiesto questo e quindi è chiaro che c'è una preoccupazione un'Italia che torna instabile che è una preoccupazione aggiungo e in particolare per l'elettorato del mio campo politico della sinistra del centro-sinistra beh qui c'è veramente qualcosa che non capisco il referendum non capita non è che in un momento astratto è in un momento preciso della storia cioè quando c'è un vento populista che attraversa tutto il mondo che è Trump negli Stati Uniti che è il Brexit nel Regno Unito che è le destre che vincono in Austria che è il rischio che vinca la Le Pen in Francia c'è un'ondata anti-sistema populista fortissima è chiaro che la lettura è che in questo momento una vittoria del no alimenta questo tant'è vero che sono preoccupati in Francia e in Germania hanno le elezioni di processo umano cosa comporterà come clima se dopo tutto quello che è successo in Italia vince il no cioè vince Grillo vince la Lega perché i vincitori del referendum è chiaro con tutto il rispetto non sono D'Alema Berlusconi sono Grillo la Lega la cozzaglia non ho detto questo chi ha usato un altro termine l'insieme confuso di posizione politica è più delicato questo insieme confuso di posizione politica ma è la sostanza quella allora di fronte a questo mi chiedo di fronte a questo rischio cioè l'ondata populista ci sono esponenti anche del mio partito che votano no perché non è stato corretto l'italicum nella formula del premio di maggioranza cioè si fermano in una cosa di dettaglio mentre c'è un'onda che sta travolgendo le culture riformiste in Europa francamente a questo proposito Enrico Olivieri da Imola le domande in Europa nel mondo movimenti populisti si fanno strada tra la gente in un modo impensabile fino a non molto tempo fa siamo di fronte al superamento della democrazia come la conosciamo noi in Europa ed in Occidente oppure è un passaggio difficile ma inevitabile che ci permetterà di riscoprire i valori condivisi quindi lui è anche un ottimista come vede l'Europa ma soprattutto l'Italia tra dieci anni specialmente dopo il referendum del 4 di dicembre dipenderà dal risultato questo è evidente ma come vorrebbe se l'Europa e l'Italia è un discorso che richiederebbe una riflessione articolata ma è collegato questa osservazione anche a quello che provavo a dire e che penso che debba anche costringerci a una lettura non è in materia di questo referendum noi siamo stati abituati a che lo schema destra e sinistra progressisti conservatori fosse e lo schema del novecento di tutto il secolo fosse uno schema permanente stabile immutabile tant'è vero io stesso ho pensato che la globalizzazione avrebbe reso ancora più semplice questo schema perché costringendo i simili a riconoscersi seppur in paesi diversi il mondo chiaramente distinto in conservatori destra sinistra progressisti purtroppo non sta succedendo questo è entrata un'ondata diversa di populismo che è molto trasversale nell'elettorato nelle sensazioni mescola che è chiaramente un'ondata antisistema che costringe non so per quanto tempo ma costringe a un'identificazione un po' diversa cioè populisti e responsabili può anche essere controproducente dal punto di vista dell'analisi queste cose perché possono alimentare il riconoscersi cose molto diverse tra di loro come sull'Italia Grillo un pezzo di estrema sinistra un pezzo di destra però questo tema c'è profondamente e noi dobbiamo capire che con questo abbiamo a che fare per questo dico dentro questa vicenda c'è il referendum e quando io vedo persone non è il tema perché anche tra chi vota sì c'è gente che ha posizioni diverse ma quando non si capisce che i vincitori di questa operazione saranno Grillo e Salvini e non certo quegli altri che hanno votato per altre ragioni e non si capisce che è un e di questo si preoccupa tutta Europa è un'altra prova che quel vento è così forte beh io mi preoccuperei rivederei le mie posizioni ci sono elettori del PD che hanno dei dubbi elettori moderati che non hanno mai votato per noi ma che non sono dentro quell'ondata così estrema e populista e io vi inviterei a pensarci io vi inviterei a pensarci senta i 5 stelle sono in un momento comunque diciamo ingarbugliato perché ci sono delle inchieste sulle firme false copiate questo lo appurerà la magistratura oggi a quella di Palermo se ne è aggiunta un'altra a Bologna da parte loro però i 5 stelle soprattutto con il vice presidente della Camera di Maio attaccano il partito democratico per quello che possiamo chiamare il caso l'ennesimo caso De Luca e cioè De Luca che incontra il presidente della regione Campania incontra 300 sindaci in un hotel per parlare appunto del referendum e della campagna che deve essere fatta porta a porta e nel suo stile teatrale che conosciamo però invita diciamo ad un pressing che utilizzi tutti i mezzi dall'invito a pranzo con offerta di frittura piuttosto che all'invito sullo yacht insomma scherzava probabilmente però le parole sono importanti e certo quel messaggio così veicolato vi mette in imbarazzo o no un conto è l'opportunità o meno di un certo modo di fare un'altra cosa sono delle indagini giudiziarie già avviate già in corso in modo avanzato però io vorrei dire questo c'è una cosa anche di saggezza popolare non si possono usare due pesi due misure allora quello che io registro è che quanto sono aggressivi cattivi i 5 Stelle quando c'è un problema giudiziario comunque anche se non giudiziario di comportamento che riguarda gli avversari quanto improvvisamente cambiano completamente valutazione quanto riguarda loro diventano garantisti mettono dubbi sulla magistratura io vorrei semplicemente che ci fosse lo stesso atteggiamento e che oggi che sono stati toccati loro oggi che sono stati toccati loro dovrebbero pensarci molto bene prima di attribuire quelle clausole di colpevolezza assoluta di fronte a qualsiasi elemento neanche un indizio di fronte a qualsiasi cosa improvvisamente ti marco e io mi metto in alto sul trono di chi è competente puro onesto i cittadini hanno cominciato la legislatura in Parlamento dicendo noi siamo i cittadini voi siete altro su De Luca ho detto De Luca ha uno stile molto lo vediamo colorito a delle volte facendo delle cose assolutamente è un certo modo di intendere la politica che non era quella sulla quale Renzi si è preso il partito democratico ed è andato infatti quando De Luca dice quello che ha detto sulla Bindi non mi sogno dico che non sono d'accordo che ha sbagliato e poi mi pare che abbia chiesto scusa però ripeto anche in questo caso non mettiamo sulla perché fa comodo nel caso delle firme false non sono insinuazioni sono due indagini aperte in corso per aver falsificato alle firme io siccome so conosco la presunzione di non colpevolezza della Costituzione non dico una parola perché non so se sono colpevoli innocenti lo cederanno i giudici ma vorrei che facessero così 5 stelle anche quando toccano persone non del loro partito quello è giusto io ho un'ultima curiosità è giusto ma non succede mai ma insistiamo con lo scenario 30 secondi con lo scenario che vinca il no i giornali noi tutti hanno scritto che sarebbero già in corso dei movimenti per mollare Renzi e lei è in qualche modo sempre al centro di queste voci di queste ricostruzioni di questi retroscena state preparando a scendere dal carro del perdente? non so neanche come difendermi dal gusto dei suoi colleghi retroscenisti perché devono tutti i giorni costruire uno scenario che eccita poi un numero molto limitato di persone io ho detto molto semplicemente come la penso penso che se vince il no sarà una sconfitta politica ma il governo debba proseguire con Renzi il Presidente del Consiglio fino alla fine della legislatura e lei rimane un renziano convinto lei Renziano lo sta usando come un atto di accusa io ho sostenuto e non mi sono pentito un minuto ho sostenuto la candidatura di Renzi a segretario quando era arrivato il suo momento ho aiutato il passaggio che ha consentito la legislatura di andare avanti della nascita del governo Renzi sono assolutamente convinto di aver fatto bene Renziano è un aggettivo io fin da ragazzo mi dava fastidio quando mi dicevano Demitiano anche Zaccagniniano questo coniugare le posizioni politiche con il cognome di un leader di un alleato mi dà fastidio quando dicono Franceschignano per fortuna ce ne sono meno è un modo sbagliato di definire va bene grazie grazie al Ministro Dario Franceschini Massimo Giannini domani ci ritroviamo è giovedì alle 10.30 con Luigi Di Maio buona serata arrivederci arrivederci a presto